Non è assolutamente come fare un corso universitario, è molto più umano, interattivo, è molto più interessante. Mi chiamo Lorenzo Galano, ho iniziato a frequentare MTS circa un anno fa, a marzo 2022, facendo il corso Vasco Ferrante. E poi in inverno ho deciso di frequentare, di seguire il corso da ingegnere di pista. Dopo MTS ho iniziato quasi subito a lavorare nel motorsport, anzi l'offerta MTS me l'ha fatta durante il corso, quindi io in realtà ho iniziato appena finito il corso, subito il weekend dopo, ho fatto già un appuntamento con Rally e un mese dopo, circa, sono sceso in pista con le mini, quindi il tempo è stato davvero breve. A giornata in pista Cervesina sono state molto emozionanti, perché vedere il pilota che gira, sentirlo parlare, guardare i dati è veramente molto molto bello. Consiglierei questo corso perché lo reputo un'ottima opportunità per chi vuole imparare qualcosa del mondo del motorsport, a lavorarci dentro e vuole avere delle opportunità per poter entrare a far parte di questo mondo, che è una cosa abbastanza difficile perché è un ambiente chiuso, però avendo delle conoscenze specifiche e potersi offrire ai team è una cosa che posso dire grazie a MTS, da solo non sarei riuscito a farla, quindi sì, lo consiglio come corso.